musica 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 bella ragazzi bentone dal vostro gioco e siamo tornati finalmente in un nuovissimo appuntamento di redmatch a schiaffi su black ops mio fratello mi sta facendo il coniglio con me ragazzi oggi c'è il grandissimo GODS bellissima faccia ragazzi allora oggi ma la fai finita niente ok oggi ragazzi non giocherò né io né ciccio gamer e nello slender ma bensì ti abbiamo incastrato oggi l'abbiamo incastrato e faremo giocare a coda in questa persona esatto ma è meglio è una sorpresa adesso prenderà lui schiaffi da parte nostra non andremo molto pesanti dai saremo molto buoni con te no non è vero non è vero saremo dei stronzi bastardi perché devo pagare esatto non pago la perché devi imparare quello che facciamo c'è preparato comunque ragazzi dai troviamo una partita e ci vediamo subito ah ok allora no no ok ragazzi abbiamo trovato una partita su slams guarda quelle padre pio ah sappiamo che io sono delle classi di merda e sono fatta apposta eh prendi personalizzata uno se vuoi proprio sono delle classi che non si lamenti fai personalizzare abbiamo preso tutti schiaffi con queste armi ottimo quello è un bravo è fatta bene eh ecco te lo dico ah allora funzionano così le regole se fai l'ultima kill della partita ci devi dare uno schiaffo a noi esatto quello è il bonus se uccidi i tuoi compagni riceverai comunque uno schiaffo perché volevo eh sì eh beh sembra ovvio e se camperi in calcio un testa ma l'ha preso sul piede non dai questa eh no Sì dai l'ho preso non devi confiare le guagge non lo pieguagge hai letato la prossima volta mi schiaffi il testo ascolta che sono le froce del naso da che ringue le so no bravo vedi che è forte vedi che è forte faccio anche un'altra voi non potrei capire che sono che spazio ragazzi tra poco cominceranno a vibrarti le guagge tra poco attenzione che viene di merda eh ma ecco perchè questo è cambiattuto io gioco alto io gioco molto alto eh no no è troppo alta tra una seconda ecco ma adesso regalo vedi 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 anche una bomba, l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista ma giuro dai dai, sono schiaffi abbastanza potenti no sono leggeri dai devi aumentarli? eh come si dice che il socculenzuolo? Gabriello già ne sappia tanti e vi ha detto no? perchè ne dia pure poco ah, è neutrale non puoi fai niente non dobbiamo fare niente non sei scappato questo era un riscaldamento esatto se è caldo le partite quante sono qua? un'altra partita un'altra partita completa quindi devi saper fare il più possibile che sono capito? comunque la bomba l'avevo chissà beh un 2-6 ci sta anche però che abbiamo un ping ah ecco che si ha messo 6-3 comunque ragazzi ne troviamo nessun altro e poi la sensibilità e anche che fanno cagliare la poltrona che non è la sua a schiaffi a schiaffi non si sente tanto a schiaffi ma adesso ci farà vedere chi è il vero anima perfetto magari prima però questo schiaffi ce li metto tutti però devo morire in meno volte ottimo c'è sempre il padre che te guarda dici mannaggia gli do una labbrata il giochino è mio abbiamo ritrovato l'altra partita ma stiamo sempre con gli stessi giocatori nella stessa mappa ma questa ah vedi stava in 4.3 ottimo poi si può morire di più ottimo ottimo ha deciso di rifare questa mappa almeno più caldo perché prima ho fatto vedi un attimo stava fa apposta se compra ierro che significa? che cazzo è tua esatto si tirano schiaffi esatto impara con il joker si e imparare un tutorial da questo attenzione vabbè ma io sbaglio tasto guarda che bella arma fashion perché c'è viola guarda che se muori ti ho dato a muo stesso a contatto di fischio ma no ma tu inverti tutto tattico come fai a giocare così? così ti abbassi con bravo bravo adesso tattico ha messo vuoi stati quei ragazzi e muovete quelli schiaffi tattici certo hai inventato la difficoltà così vabbè che c'ho paura che cazzo crampero ma ce l'ha detto sai quello ho visto la sua data a tenere però vabbè io seguo lui guarda si si vai tu segui vivrai tantissimo lui fa la cavia vai anche tu sai di tirare lui sul suo voleto non c'è nessuno lo dici tu ero qui eh guarda ecco qua ecco ce l'hai guarda mi dispiace se è morto così non c'è nessuno ma ti stavo scappando davanti alla tua potenza adesso guarda che c'è che coraggio sta sparando da dietro veramente sì mi pare di sì eh io l'ho visto però non hai sparato era un po' lontanuccio c'ha l'arma timida non arriva a distanza è un po' no dio stai a spregnare mamma è gente che passa tattica fortunatamente che ma perché c'è nessuno che sa noti dall'altra parte oddio eh guarda come volo attenzione le granate steppe attenzione no l'hai visto l'hai visto complimenti però poi l'hai visto si mette pure occhi di almeno piace il suono tipo subwoofer vabbè la prossima me li posso tirare da solo no dai l'hai visto bravo 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 usiamo usiamo c'è anche le granate comunque se vuoi lanciarle lo sai attenzione è incredibile sta sempre lì comunque stai attento che... no è incredibile ah questo l'ho cuclato sto giro ce n'è dietro uno RITORNO! Cambiano troppi sponi, è colpa del... Si, è colpa del... Sta facendo veramente uno schifo, complimenti! L'hai visto, l'hai visto, l'hai visto! E' il tuo! Vai sopra! Dai, lasciamo una sassata! Piena mattonella! L'hai preso, l'hai preso! L'ho preso uno! Spero che non fa l'ultima kill, che si sbaglia! Ce lo sei vendita quello! C'è un altro! Sto risando a capirci! E adesso? Mi sono cagato addosso! Mi sono cagato addosso! Guarda che ne hai preso un po' il culetto magari eh! Hai fatto un verso un po'... Fine, fermo! L'importante è cinquettare! Ok, ok! Che cosa hai visto! C'è paura! C'è paura! Prendiamo quest'arma! Prendiamo quest'arma! Non raccogliete le armi! Esatto! Mai raccoglierai durante il gioco! Nuovo consiglio! Quando avete prendere schiaffi... Ce ne avrei a destra! A destra! Ma perché non ce l'hai letta? C'è la mappa! C'è la mappa! C'è la mappa! A destra ce l'hai occhio! A destra ce l'hai occhio! No, no, no! Ma comunque è vero, è troppo lenta! Ma mi mettete assia? No, no, non facciamo niente noi! Attento! Adesso abbiamo messo a cinque! Adesso sono cazzi vostra! Tu pensi di un gioco a otto? Ah, è vero! Dai, tu barra nove forse! Ma chi spari? Eh, vabbè, sì! Eh, vuole fare un attimo il pro, dai! Per me te la guarda dietro! Ma che è pure secondo me? Guarda, eh! One, two, three! Anima mori qui! Là! Eh, come indovino fai un po' caca! Sì, guarda, eh! Modemo mori! Tra tre, due, uno! Ma sei pizzoni! Stasera invece che cucinare il pom... Mi tagliate una fetta di guancia uguale, eh! Sì, vero, vero, la stiamo dando le botte Adesso si abborbidisce! Oddio! Eh, matto! Sei matto! Sicuro! Lancia una granata a buffo, come faccio io! Ah, così accanto! Puoi essere che gli uccidi qualcuno! Ho chiesto di uscire l'alleato! Approvvigionamento! Eh, no! L'hai preso! L'hai preso! L'hai preso! L'hai preso! L'hai preso! Lancia granata a buffo! Eh! Ma a me si ha chitato a destra! Oddio! Guarda quello che ha fatto! Ecco! E' fatta la sacoma, porco due! Eh! 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 Sicuro! Sicuro! A 100%! Qua a destra sicuro! No, per me è più da qua davanti! Dici! Per me fosse pure qua! Ma per me fosse pure là! Ecco! C'è stato! A M'ho preso a sinistra! 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 Si! Ma pure le orepi siamo passati! Aveva fatto un upgrade! Si! Da poco pure da parte! A M'ho preso! Eh! L'ho distratto io! A M'ho preso! Ma questo è stato piano! Meno male! Anche perché non vedi 37 miliardi! E' un po' dopo dieci schiafi gli hai dato una carezza! Non so! No, dopo dieci schiafi c'è pugno a testa! Ah! Eh si! Perchè fai il per due no? si non 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 io vengo a casa loro ospitarlo per prendere le botte mamma mia quante botte che anche anche per farlo a a tattica marmotta vai guardate la dietro che tattica è muori l'altra volta ferocemente 8-10 20 21 bravo sicuramente ecco lì l'ho visto l'ho visto l'ho visto si è stato promosso si è stato promosso non vale che regole di merda sono regole di casa casa nostra casa tua regole due esatto come fa l'ultima kill guarda che rom se lo senti nell'anima è 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